L'ex prefetto di Reggio Calabria, Franco Musolino, attualmente nuovo consigliere della Corte dei Conti di Catanzaro, questa volta in veste di romanziere a Polistena, nella Sala delle Feste, la presentazione dei suoi romanzi Due Giali d'Autore, un salotto letterario con intramezzi musicali che è stato spunto per parlare di indrangheta come fenomeno sociale. Dicevo poc'anzi a un suo collega, il problema è di riuscire a far fronte comune contro questi fenomeni, così come si è riusciti a farlo negli anni 70, negli anni di piombo contro il terrorismo. Quella del terrorismo non era una minaccia meno preoccupante di quella mafiosa, eppure siamo riusciti molto rapidamente a sconfiggerlo perché la gente è stata compatta, perché c'era un sentimento di repulsa comune, trasversale, condiviso che li ha isolati. Noi non siamo riusciti ancora a isolare completamente questi fenomeni, nonostante la bravura delle forze di polizia, degli investigatori, dell'autorità giudiziaria, perché ancora purtroppo si enfatizza la loro potenza. La potenza di questa gente è sicuramente elevata, però noi siamo certamente, la società è in grado di combatterla e di sopraffarla. Si tratta, come dicevo prima, di riuscire a fare però fronte comune, una circostanza che ancora mi pare stente a trovare terreno fertile. Come mai i due libri dedicati a questa terra? Io sono figlio di questa terra, è una terra che naturalmente amo. Poi sono due libri che sono nati un po' per caso dalla curiosità, dalla sfida, se vuole, di capire se fossi stato capace di scrivere qualcosa che non cominciasse burocraticamente o con riferimento alla nota sopreddistinta che è il modo di scrivere dei burocrati a quale modo mi sono dovuto piegare per parecchio tempo. Credo che chiunque ami qualche cosa abbia bisogno di parlarne. E io amo questa terra, quindi raccontarla anche al di fuori di quello che è il panorama calabrese, soprattutto al di fuori di quello che è il panorama calabrese, è importante. Credo possa essere anche un contributo a farci capire di più e a farci apprezzare di più. L'Italia è un paese molto lungo e stretto e le differenze sono tantissime. Io ho avuto la fortuna di lavorare un po' in tutta Italia, anche al nord, di capire che non siamo conosciuti, non siamo capiti. Allora penso che qualunque opera, anche opere modeste come queste, possano servire a dare il senso della calabresità e possano servire a far capire che ci sono dei valori, oltre che delle cose molto belle, che noi coltiviamo gelosamente e che riusciamo a tramandarci di padre in figlio. Spero piuttosto che la fatica di scriverla, che comunque è stata, devo dire, neanche tanta, possa trovare dei lettori in qualche maniera gradevolmente colpiti. Spero che piacciono sostanzialmente, perché chiunque scrive ha questa speranza recondita. Calabrese, originario di Santo Stefano da Spromonte, il prefetto Mussolino ha svolto una brillante carriera nelle istituzioni dello Stato. È stato capo di gabinetto delle prefetture di Reggio e Milano, dove ha anche ricoperto l'incarico di prefetto Vicario. Il 30 dicembre 2005 ha assunto l'incarico di prefetto di Crotone, poi quello di Cosenza, nello stesso anno Reggio Calabria come prefetto. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Girolamo Marafioti di Polistena e dall'amministrazione comunale.